Resta con me, siamo qui con tre splendide coprotagoniste, si può dire così, della serie. Quindi innanzitutto partiamo, raccontatevi, raccontateci il vostro ruolo, così gli spettatori cominciano a farsi un'idea. Vai? Sì, allora, parto io, io sono Chiara Celotto, interpreto Linda Fiore, che è un'agente dell'unità di intervento notturna. È un poliziotto che collabora con Salvatore e Alessandro, Francesco Archi e Antonio Milo, ed è un personaggio molto forte, con delle fragilità, con un passato difficile, appassionata del suo lavoro, ed è un personaggio anche molto coraggioso. E tu chi sei nella serie? Allora, io interpreto, il mio ruolo è Ilaria D'Angelo, nasce a Scampia, quindi in una realtà molto difficile, entra in contatto con il male ben presto, ma decide di combatterlo scegliendo lo Stato. Quindi sceglie la polizia, insieme al fratello, Stefano, interpretato da Amedeo Gullà, che saluto. E niente, lei si dedica animi e corpo al suo lavoro, ma due uomini della sua vita, Stefano, suo fratello e Marco, il vicequestore interpretato da Arturo Muselli, le renderanno un po' le cose difficili. Tra questioni d'amore e di famiglia sarà un po' complicato. I uomini rendono sempre difficili le cose. Rendono sempre difficili, vedremo come reagire a lei. Io sono Alessia Spada, si può dire l'outsider un po' di questa serie tv, è una donna senza filtri, molto istintiva, che sta soffrendo per amore, quindi questo amplifica un pochino tutte le sue caratteristiche. È una grande amica di Alessandro, una sua confidente, anche lei spesso si confida con lui, quindi il suo dolore riesce a raccontarlo solo a lui. È una donna senza filtri, quella che vorremmo essere un po' tutte quando ci girano. Ecco, partecipare, ovviamente non è la prima cosa che fate, però partecipare ad una serie così importante, che poi nasce con tante aspettative, è stata anche presentata sul palco di Sanremo, quindi insomma l'hype è bello alto. Per un attore poi, quando viene preso e viene detto sì, ok, farei quella serie, è più la paura, al di là della felicità, c'è ovviamente una componente, oddio, mi sto mettendo in un ingranaggio veramente grande. Voi come reagite in questi ragazzi? Guarda, in realtà si crea un rapporto talmente stretto con il regista durante i provini, che poi l'unica paura che io ho effettivamente è quella di deludere la persona che mi ha scelto. Per il resto, tanta felicità, ma soprattutto concentrazione per quello che poi bisognerà affrontare, perché appunto la difficoltà del lavoro è di riuscire a fotografare il personaggio in ogni sfumatura e questo ovviamente è la maggiore preoccupazione dell'attore. Guarda, una cosa a cui io tengo tantissimo è il gioco di squadra, quindi so che anche di un grande progetto non mi spaventa molto la realizzazione tutto il periodo, perché so che facendo squadra e lavorando insieme, come è capitato anche qui fortunatamente, si creano delle sinergie belle anche dal punto di vista umano e quello ti fa sentire al sicuro sul set, che penso sia una cosa fondamentale, quindi lavorare in totale serenità sia con la regia, con il reparto di regia, ma anche proprio tra di noi, tra noi attori. Quando si crea complicità è tutto più rassicurante, ti senti protetta, quindi questa per me è una cosa fondamentale e siamo stati molto fortunati. Sì, anche per me è un po' come per Angela, anche per me è un po' la questione di non deludere chi ti ha scelto, perché comunque secondo me una volta che fai il provino e vieni scelto devi essere scelto ogni volta anche sul set e quindi c'è una grande aspettativa anche da parte mia proprio verso me stessa e sicuramente la gioia enorme per me era il primo personaggio così, così, la regista la regista, la regista un personaggio così grande e quindi la paura era tanta però appunto il progetto è stato molto coinvolgente è stata una squadra veramente bella, umana, è stata un'esperienza proprio umana, bella no, cioè io andavo con gioia sul set anche comunque con la stanchezza di mesi, di riprese. Ecco, e a proposito di esperienza non vi chiedo la domanda che vi farebbero le amiche a casa beh, com'è stato lavorare con Francesco Arca che per una ragazza è sempre immagino, no? Di default sia comunque una bella cosa, ma invece com'è stato lavorare a Napoli, quindi il vostro rapporto con Napoli e che nella serie diventa a tutti gli effetti quasi un altro personaggio? Allora, porto io... Qua se vuoi dire qualcosa anche su Arca, liberissima Arca sicuramente è un bellissimo uomo ma è soprattutto una bellissima persona cioè io mi sono trovata subito a mio agio, una persona che crea appunto anche lui come un capo comico nelle compagnie teatrali crea una situazione veramente di serenità sul set e quindi sei a tuo agio e sei felice di condividere le scene con lui quindi Napoli sicuramente è emozionante viverla proprio anche perché è la mia città quindi sicuramente ha una importanza per me maggiore ed è stato bellissimo viverla di notte perché è una serie soprattutto ambientata di notte e quindi soprattutto viverla in un modo anche un po' scuro essendo un poliziesco, quindi Napoli diventa appunto quella città che contiene le brutture e le bellezze e quindi sì, diventa un personaggio Allora, Arca rassicuriamo tutti è così come lo vedete, cioè è proprio bello così pure dal vivo e la cosa bella, ancora più bella però è stata la sua accoglienza sul set è stato, si è sentito veramente responsabile verso tutti di noi, verso ognuno di noi e ci ha fatto sentire protetti a modo suo, con delle sue attenzioni anche molto piccole e io sono rimasta molto felice di questo e in generale poi noi giocavamo in casa quindi ci siamo sentite molto a casa e è stato bello anche raccontare sì una Napoli di notte ma credo che la trovata narrativa di raccontare i sentimenti di ognuno di noi abbia anche molto illuminato la serie, è girata di notte ma non è mai buia sembrano sempre tutti questi cuori alla ricerca della verità e ognuno ha la propria storia ognuno ha la propria storia e va avanti appunto nel cercare la propria verità e vedremo come si intrecceranno poi ogni volta in maniera diversa ed emozionante Guarda, proprio due parole su Arca Che te lo dico a fa? No, che te lo dico a fa? Sei No, professionalità, umanità, preparazione era il più preparato sul set, possiamo dirlo arrivava preparatissimo, ci accoglieva a livello umano non più s'ultra e invece per quanto riguarda la napoletanità devo dire che ognuno di noi è portatore di un pezzettino di Napoli lo possiamo dire, ogni sfumatura della napoletanità è intrisa in ognuno di noi quindi questo è molto importante in una serie che deve rappresentare anche una città e poi girare di notte, come dice lei, è stato anche scoprirla un pochino perché nel caos delle volte ti perdi delle cose e invece nel silenzio noti delle cose che non avevi mai visto E vi siete invece poste, visto la tematica di questa storia quindi la perdita del bambino, l'acquisizione, l'adozione fra virgolette di questo ragazzino rimasto orfano voi vi siete interrogate, o se non l'avete fatto fatelo adesso io come mi sarei comportata? posto che ovviamente in ogni situazione bisogna trovarcisi poi per avere la risposta reale ma così a naso, voi personalmente come vi sareste comportate? guarda, il vero valore aggiunto di questa serie è che veramente pone degli interrogativi reali, veri che mettono lo spettatore di fronte a una reale situazione, dimensione di confronto e in questo caso io non ti posso dire quello che mi sono risposta ma certamente me lo sono domandata e ho capito che alla fine quando ci si trova nella situazione in qualche modo si pensa ma è facile, è facile scegliere una cosa o l'altra ma alla fine mettendomi dei panni dell'altro capisco che è la cosa più difficile del mondo sì, io posso dire che leggendola ho gioito molto leggendo alcune scelte ma penso che la serie però si proponga più che altro di dare degli spunti di riflessione non ti dice cosa sia giusto, cosa sia sbagliato ma credo che anche per una famiglia sia bello guardarla insieme pure come confronto io ho fatto molto il tifo essendo molto emotiva e facendomi trasportare molto dalle cose che mi accadono però in generale sì, sarebbe anche molto curioso sapere gli altri guardando la cosa proveranno sì, anch'io non so cosa avrei fatto ci ho pensato ma non mi sono riuscita a dare una risposta perché effettivamente in queste situazioni così grandi sicuramente non puoi darti una risposta se non le vivi sì, ecco c'è qualcosa che arriva in modo intuitivo e istintivo ovviamente pensato ma deve partire dal cuore la decisione perché altrimenti è un danno che si provoca all'interno della famiglia questa è una serie che appunto come dicevamo facendo le corna avrà sicuramente successo quindi voi vi candidate a farne due, tre, quattro, cinque stagioni oppure personalmente serie di quelle, perché ci sono anche quelle attrici o quegli attori che magari non amano restare troppo legate ad uno stesso personaggio e quindi magari dice no, io una o due stagioni poi taglio perché mi piace fare altro posso? certo io penso che fin quando il personaggio venga scritto con un messaggio preciso è utile veramente alla narrazione quindi abbia una sua importanza è bello portarlo avanti quindi se è portatore di un messaggio preciso io sarei molto contenta e alla fine lo scopo del nostro mestiere è questo siamo degli interpreti quindi dobbiamo comunicare qualcosa se alla fine della narrazione è un bel personaggio io sono felice sono molto d'accordo con Claudia nel senso che il personaggio fin quando non si esaurisce ha motivo di esistere nel momento in cui è lì e non aggiunge valore a quello che accade al progetto assolutamente non ha motivo perché perde anche di valore il valore che ha raggiunto fino a quel momento sicuramente questo progetto è veramente validissimo sicuramente finché si riesce ad essere uno spaccato di umanità che sia un personaggio positivo o negativo perché sono amabili entrambi per un attore allora vorrà dire che ne varrà la pena bene allora in chiusura raccontateci dove altro vi vedremo dopo resta con me allora io ho appena finito di girare un film per il cinema sarà breve nelle sale che si intitola Girasoli e lì proprio per quello che stavo dicendo faccio l'antagonista quindi non è un personaggio positivo ma è stato divertentissimo interpretato come sempre fai cattivi come sempre anche perché è molto diversa da me non è vero e io sto girando quindi non posso dire nulla però posso dire che è una serie molto bella che desideravo da tanto quindi presto mistero io il 2 marzo uscirà un film di Sidney Sibilia il nuovo film Mixed by Harry ed è una storia ispirata da una storia vera incredibile come appunto tutte le storie che racconta Sidney Sibilia ed è una storia veramente del taroccatore più celebre esattamente del re della pirateria delle musica 7 e quindi è una storia veramente che ha toccato tantissime generazioni ed è molto molto è una commedia è molto anche toccante e devo dire è proprio un film ricco benissimo e allora finalmente diamo l'appuntamento agli spettatori quando e dove possono vedere Resta con me domenica 19 alle ore 21 Resta con me alle ore 21 forse diciamo molto abbondanti domenica 19 in prima serata su Rai 1 Resta con me ah pensavo le Charlie's Angels grazie e complimenti